Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su One Piece Fighting Path Stavo per dire Bounty Rush LOL, va bene Signori, signori, signori E finalmente Penso che si sia già descritto da solo raga E' uscito Akai, un gran ammiraglio su One Piece Fighting Path Non ho pulato da Fugitora proprio per questo, proprio per questo Perché aspettavo lui E forse dopo di lui c'era addirittura un Mioc nuovo Quindi raga, tanto hype, tanto hype Adesso ci facciamo le 3 multi, sperando che esca Ma non c'è problema, tanto noi possiamo prenderci il personaggio gratis Giocarlo PvE Fino a tutta la durata del suo banner E poi avrò tutto il tempo per farmare e prendermi il personaggio garantito In 9 multi questo personaggio me lo porto a casa tranquillamente Signori, signori Vi è con la prima multi Trovarlo adesso sarebbe veramente assurdo Ma vediamo Vediamo, 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 vediamo Akainu Vediamo Va bene Foxy Alvida Foxy Gunford Oh, un altro lupo, ok, va bene Questa multi è andata così Va bene Non c'è problema Ok Luffy da quello che so fa sempre così Quindi non ti sa dire se c'è un'animazione buona o no È tutto veramente molto casuale qua A differenza di Bounty Rush Va bene Ok, ok Niente Akainu, va bene Ok Ok Nami, va Mi spiace Nami ma di te non me ne faccio molto Beh, Django pure, guarda Mister One Nami Un altro Django Niente Akainu Va bene Non c'è problema Non c'è problema Allora Vediamo se con i frutti riesco a prendermi Allora Famo così Famo una roba per volta Dove lo so Ho Eh, questo Sì Ah, vedi Con 2000 frutti mi prendo 10 ticket Ok, va bene Quindi ok Mi toccherà farmare Vabbè Allora direi di provarci Akainu Cioè Tanto ce lo prendiamo Poi magari Vi porterò lo showcase In Ok Bene Bene Questi sono i stage per sbloccarlo più Questo non so cosa sia Vabbè Raga proviamo il personaggio però Cioè io sono veramente curioso Curiosissimo 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 Ok Mamma mia Che fiero Mamma mia Fighissimo Tanta roba Questa skill Mamma mia Bellissimo Bellissimo Ma che razza di animazione ha Mamma mia Bellissimo 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 Non mi riesce con la mano magmatica però No perché questa skill è fatta così Non mi riesce con la roba lei Allora Ragioniamo 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 Un po' di difficoltà qua Ok Perché con la mano magmatica però non esce qui Ah no che era uscita Ok Ah forse devo tenerlo premuto Ok allora vediamo Ma vai è venuto bro Allora Allora Scusate che finisce la barra Ok Ok Benissimo Grazie Grazie mille Benissimo Mamma mia Ma che è sto PG Che è sto PG Che è sto PG Che è sto PG Uy meteoriti volcanico Mamma mia Mamma mia E mossa finale Mossa finale Uh Mamma mia Ragazzi Fighissimo 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 C'è l'effetto del magma È veramente Fatto Troppo bene Ok Adesso noi Akainu L'abbiamo sbloccato Quindi possiamo farci tutta la storia Tutte le missioni pv secondarie E farmare nel frattempo Tic Ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Vi invito a lasciare un like Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Notteviche Scrivetevi sotto voi Nei commenti Se avete pullato da Akainu Signori Mi raccomando Link in descrizione Del gruppo telegram Per scaricare il gioco Mi raccomando Raga Me lo chiedete sempre E io ve lo dico sempre Link in descrizione Telegram E niente signori Noi Ci vediamo Al prossimo Video Ciao raga